Gabriele Paletta è ufficiale all'Atalanta, inizia per te una nuova avventura? Sì, sì, contento, tranquillo, speriamo di cominciare bene, di conoscere i ragazzi, i compagni e poi di allenarmi col gruppo. Eri uno degli obiettivi dell'Atalanta, Paletta ha detto sì. Sì, sì, infatti mi hanno chiamato tante volte il direttore, ho parlato anche col presidente e i ragazzi, sono state delle settimane per me molto importanti perché voleva dire che mi volevano davvero e allora è stato importante per prendere la decisione. Ecco, si inizia, quindi nuova avventura, pronti via, sensazioni, emozioni, obiettivi tuoi? Sì, no, contento, come ti dicevo prima, sperando di giocare la maggiore quantità di partite e poi di dare il mio contributo alla squadra, sicuramente di provare col gruppo a raggiungere qualche obiettivo importante. Grazie. 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 Grazie.